Sinceramente avrei voluto che me lo venissero a dire in faccia. Ma probabilmente costruita nel rapporto tra te e Tommy. E Tommy, non te come persona. Ok. Perché c'è stata fatta una domanda chiara che è precisa. Però penso che sia palese a tutta Italia che stiamo giocando e stiamo scherzando. Ma oddio insomma. Oddio insomma, vedete meglio, guardate meglio, no? Secondo me invece sì. Dipende, dai. Da che? Dipende da come ti comporti, a volte. E che cosa ho fatto? Ma niente, insomma. Così sconvolgente ho fatto. È la nostra percezione. Assolutamente, assolutamente. Sarebbe stato forse più carino che me lo veniste a dire. Ma perché devo venire da te e di te? No, voi l'avete detto la scorsa volta che comunque amate la sincerità, che parlate in faccia alle persone, a maggior ragione del fatto che con te parlo spesso. Sì, ma tu non ci hai chiesto a noi cosa ne pensiamo di te nel rapporto con Tommy? In questo biglietto parliamo. Non c'è il rapporto con Tommy? Cioè, non si parlava di quello, non di te come persona. Sì, sì, ma visto che comunque, soprattutto con te, Ilaria, parliamo molto spesso, mi sembra. Sì, ma non di Tommaso. Sì, ma per esempio tu questa cosa con noi non la fai. Non parli mai di Tommaso. Se fosse una persona veramente che ti interessa, una volta ci dici, sai che ho fatto con Tommaso? Sai cosa mi piace di Tommaso? Voglio dire. Invece tu Tommaso non lo nomini proprio. Ma perché voi mi avete chiesto? E allora che pretendi? Tommaso, voi avete dato un'opinione su quello che avete messo. Eh, basta. Non te la pregi. Non ce la faccio. Come persona, capito? Grazie a tutti.